I lampadari di San Marco a Venezia Murano illumina il mondo Benvenuti in questo nuovo video in cui vi presenterò Murano illumina il mondo in cui le procuratie vecchie brillano con i 12 lampadari che hanno acceso da Natale il salotto di Venezia Progetto espositivo promosso da The Venice Glass Week e dal comune di Venezia che per la prima volta nella storia porta sotto le volte della procuratie vecchia di piazza San Marco 12 lampadari in vetro realizzati appositamente per l'occasione da altrettanti artisti di fame internazionale insieme a nove tra le più prestigiose fornaci di Murano che hanno messo a disposizione la loro maestria, manualità ed esperienza Un connubio unico e spettacolare tra il vetro di Murano e l'arte contemporanea internazionale che guarda al futuro e all'innovazione ma non dimentica le tradizioni secolari di Venezia Un incontro di arti, saperi, mestieri, artigianità e sperimentazione culminato nella realizzazione di 12 lampadari in vetro che fino al 27 febbraio trovano dimora ad eccezione in piazza San Marco cuore della città Io come al solito li ho scoperti quasi per caso per chi ci dovesse passare per la fine del mese potrà vederli per tutti gli altri ho fatto appunto questo video Fatemi sapere nei commenti quale vi piace di più Noi se la mia gamba ricomincerà a funzionare ci sentiamo al prossimo video Noi se la mia gamba ricomincerà a funzionare ci sentiamo al prossimo video Noi se la mia gamba ricomincerà a funzionare ci sentiamo al prossimo video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti